Parleremo di gestione documentale nel senso di documenti cartacei passati allo scanner memorizzati e gestiti con Orze Domino. Innanzitutto mi presento, io sono Fabio Di Paola, lavoro nell'informatica da un po' di anni, ho avuto un passato in Lotus Italia, ho cambiato un po' di aziende, ho iniziato come sistemista amministratore di Domino, poi siamo onesti, i server Domino stanno super contro loro, non c'è molto bisogno di amministratore e quindi sono passato a fare lo sviluppatore. Attualmente lavoro in Ergo Previdenza, Ergo Previdenza è una società del gruppo tedesco Ergo che è presente in praticamente tutta Europa più un po' di nazioni asiatiche, quindi casa madre in Germania e sparsi un po' in tutto il mondo. Apro una piccola parentesi, se c'è gente IBM qua, lancio un messaggio. Noi siamo praticamente l'unica country di tutte queste che usano OZ, tutti gli altri sono Microsoft. Se chiedete a un commerciale di Dusseldorf di andare in Ergo Germania e vendere qualcosa IBM, ci aiuterebbe a avere meno pressione per migrare a Exchange che periodicamente abbiamo. più usa la parentesi. Ergo in Italia è la classica società assicurativa, siamo circa 300 persone nella sede qui di Milano e come tutte o la maggior parte delle società assicurative lavoriamo su due rami ben distinti. Il ramo vita-previdenza, quindi le classiche polizze vita-previdenza eccetera eccetera che tutti voi conoscete e la parte assicurativa vera e propria, cioè polizze auto, polizze sulla casa, polizze di vario tipo contro i danni. Voglio solo farvi notare due cifre che avranno poi importanza andando avanti con la presentazione e il numero di clienti, circa mezzo milione per la parte vita-previdenza, più di 300 mila per la parte danni. Altra cosa che tengo a farvi notare, perché poi avrà una certa importanza, è la nostra struttura. Come azienda assicurativa noi abbiamo una serie di agenzie sparse sul territorio che vendono i nostri prodotti. Queste agenzie però, a differenza di quello che succede per esempio con una banca, non sono di nostra proprietà, ma sono società a tutti gli effetti che semplicemente rivendono i nostri prodotti. Quindi per aspetti di sicurezza che poi vedremo è importante tenerlo presente perché non sono dipendenti ergo, non sono parte dell'azienda. Ok, vi dicevo, il numero di clienti, a cosa si collega? Ah, come è nato tutto il progetto. Guardate un secondo, arrivo, mi chiedo a farlo spiegare. Hai da paura tranquillo, perché quando lo posticipiamo, vai tranquillo. Non so se sono contenti loro, però... No, non si preoccupare. No, io non... Il 12 e mezzo c'è tanto. Ok. Come nasce tutto il progetto? Da un paio di semplici domande che mi hanno fatto in azienda circa tre anni fa. Vorremmo passare allo scanner tutto l'archivio cartaceo aziendale, in modo da averlo poi disponibile in formato elettronico e poterlo interrogare da qualunque pc aziendale. Allora, tenete presente il numero di clienti che citavo prima, quindi circa un 800.000 clienti in totale, significa un 800.000 pratiche circa da archiviare, dove ogni pratica può essere composta da svariati documenti. Qualunque comunicazione è entrata in uscita da un'assicurazione verso il cliente, deve essere per forza scritta. Anche semplicemente il fatto che un cliente mi comunichi, ho cambiato indirizzo di casa, vado a vivere da un'altra parte, la vogliamo come comunicazione scritta. Quindi questo porta a centinaia di migliaia di documenti da passare allo scanner e da archiviare. Ovviamente una cosa del genere, gestirla come attachment in uno o più NSF di notes, diventava abbastanza problematica, sia come storage, sia come ricerca e retrieve dei documenti dopo. In più, ultima nota che mi aggiungono i colleghi, vogliamo anche gestire la posta che arriva quotidianamente, quindi il cliente che mi dice, ho cambiato indirizzo, diventa una posta in entrata che deve essere in qualche modo gestita con un flusso di lavorazione smistata all'apposito ufficio e quindi inserirsi in un workflow. Questa è una cosa già che Notes fa meglio, per non dire che è il suo pane, e quindi siamo rientrati già su binari più gestibili. Quindi, da una parte, la necessità era quella di archiviare documenti che inizialmente sembravano dovremmo essere solo PDF, al limite qualche JPEG. Poi in realtà man mano l'appetito viene mangiando, le fonti di provenienza di questi documenti si sono ampliate, per cui abbiamo avuto anche email, fax, print screen, di tutto un po', con un sistema di ricerca e visualizzazione e con un sistema di workflow per gestire i flussi di lavorazione. Decisione tecnica, il come, ovviamente come dicevo prima, un workflow per gestire un flusso di lavorazione per nozze del suo pane, nessun problema, per gestire il database dei documenti, quindi centinaia di migliaia di record con file inseriti, per noi la soluzione quasi obbligata è stata DB2, quasi obbligata anche perché in realtà avevamo già DB2, avevamo già una serie di applicativi che lavoravano su DB2, Noz con DB2 ci lavora tanto bene, Lotus Script e quindi l'applicativo Noz Domino per legare e gestire il tutto. Lotus Script ovviamente con l'uso estensivo delle Lotus Script Station, quindi le famose LSXLC, per gestire tutte le connessioni avanti e indietro con DB2. Nota bene, non è NSF DB2, cioè quella cosa che era passata così e poi non si sa che fine ha fatto. Abbiamo deciso, forse anche grazie al cielo, di non utilizzarla e quindi tenere proprio archivi separati e distinti. Ovviamente tutto questo non è una tecnologia nuova, non sono qui a farvi vedere l'ultimissima novità, l'ultimo grido eccetera eccetera, è una tecnologia che è, credo partita nel 2003, è la parte lei con i connectors, il che mi fa solo piacere perché vuol dire che ormai è sperimentata, stabile, funziona, è sicura. Da noi è un qualcosa che abbiamo cominciato a usare estensivamente appunto tre anni fa quando è iniziato questo progetto. La struttura, dal punto di vista logico, è abbastanza semplice, in realtà era così anche dal punto di vista pratico. L'applicativo è nato con due server, il server domino e il server DB2. Inizialmente il server DB2 era uno solo su Windows, con, alla fine, adesso poi semplifico un po' e qualche dettaglio non ve lo cito, però, alla fine, abbiamo tre tabelle che sono la tabella di indice, la tabella dei documenti e una tabella per altro, le classiche note varie e eventuali. La tabella di indice in DB2 è quella che mi contiene i dati del documento che ho memorizzato, quindi fisicamente il numero di pollice, il nome del contraente, cos'è il documento, cosa c'è dentro, il numero di progressivo del cliente, quindi una serie di informazioni che mi servono per fare il retributo. La tabella DOC è quella che fisicamente mi contiene il campo BLOB, cioè il binary large object, e quindi dove fisicamente c'è dentro il documento passato dallo scanner. L'altro, ripeto, è la classica tabella per note, per campi aggiuntivi che man mano sono arrivati per motivi vari e così via. In realtà adesso questa struttura sta cambiando, tenete presente che il progetto è nato tre mesi fa, il core del progetto l'abbiamo sviluppato in circa 5-6 mesi, ma tuttora è un cantiere aperto, perché essendo un applicativo nostro che sviluppiamo noi, le richieste degli utenti sono periodiche, quindi continuiamo a lavorarci sopra. Di conseguenza è già pianificata e per certi aspetti è già avvenuta la migrazione del server DB2 dalla piattaforma Windows alla piattaforma AX. Notes è sempre un solo server, sta aumentando il numero di utenti, è possibile che ne affiancheremo un altro in cluster per fare load balancing, high availability, eccetera, eccetera. Però come struttura dal punto di vista logico, vedete che l'abbiamo mantenuta abbastanza semplice. Come struttura dal punto di vista applicativo, tutti i vari componenti che poi andremo a vedere lavorano più o meno nello stesso modo, in DB2 esiste una tabella che abbiamo chiamato contatore che ha dentro un progressivo, che è l'ID del documento che assegniamo ogni volta che ci scriviamo qualcosa, quindi ogni volta che aggiungo qualcosa vado a aprire questo contatore, prendo l'ultimo ID utilizzato, aggiungo uno, aggiorno e poi scrivo nell'indice e nella tabella di documenti i nuovi dati. Se il tipo documento, poi lo vediamo in dettaglio, quindi se quello che sto memorizzando richiede un flusso di lavoro, mi genera anche un documento notes di notifica, l'abbiamo definito, quindi un qualcosa che avvisa, guardate che c'è un'azione da intraprendere, e anche questo si porta dietro il documento e il numero di ID, quindi leggo tutti i record e i documenti notes con questo numero di ID che mi viene portato dietro. A lato pratico cosa succede? Un'azienda esterna a cui abbiamo dato il contratto in un sourcing di gestione della posta, riceve fisicamente la nostra posta cartacea tutti i giorni. Questa posta cartacea viene passata allo scanner, i dipendenti di questa società sono stati formati in modo da riconoscere nella lettera cosa ci sta chiedendo il cliente, che può essere banalmente ergo guarda che cambio indirizzo, mandami le lettere a questo nuovo indirizzo, quindi salva in formato PDF il documento passato allo scanner e aggiunge i dati appunto che mi servono per l'indice retrieve, quindi il numero polizza, il nome del contraente, il cosa mi sta chiedendo. Noto e tempo, una procedura notturna via FTP, prende tutto il loro blocco di dati che hanno lavorato durante il giorno e me lo passano. Tutto questo però sottintende un piccolissimo problema, questo va benissimo per gestire la posta di tutti i giorni, non va bene perché qui non è citato il progresso, cioè noi avevamo un archivio cartaceo di dimensioni abbastanza grosse da passare allo scanner e memorizzare, in modo che non abbiamo nell'archivio documentale solo la posta arrivata oggi, ma tutta la storia del cliente. primo passo è stato smontare tutto l'archivio cartaceo che avevamo in azienda, montarlo sui camion e spedirlo all'azienda esterna in un sourcing che ci fa il lavoro. Seconda decisione è stata quella di non chiedere a questa azienda di passarci tutto indiscriminatamente lo scanner perché sarebbe stato probabilmente il caos, ma di agire in un modo diverso, man mano che arriva una comunicazione di un cliente, io ho la polizza 99 e vi chiedo questo, l'azienda che ci fa la scansione, oltre a scansionare la lettera appena entrata, va nell'archivio cartaceo, prende il fascicolo della polizza 99, quindi con tutto lo storico e passa allo scanner anche quello. Per cui specialmente per i primi mesi ogni lettera che entrava in realtà scatenava anche la scansione di tutto il cartaceo progresso. Siamo ormai a buon punto con questa fase, nel senso che ormai a furia di scansionare il progresso abbiamo recuperato la maggior parte dei dati e quindi ci siamo attestati e assestati e il flusso è un po' calato come intensità. Come dicevo, procedura FTP notturna mi manda tutte le scansioni del giorno più un bel file di indice che contiene la descrizione di tutte le scansioni. L'autoscript, sempre noto e tempo, prende questo file di indice, legge ogni record, scrive nella tabella di B2 dell'indice il cosa c'è, quindi cosa sto lavorando, eventualmente se ci sono note aggiuntive che vanno nella tabella varie, il file va nel campo BLOB della tabella apposita. Il tutto, ripeto, legato dal numero di ID per fare le varie join in SQL dove servono. Una volta che il documento è archiviato nella parte di B2, a seconda delle condizioni presenti, cioè è posta in entrata, viene generato un documento nell'applicativo notes che è la notifica di rinavorazione, cioè l'avviso all'ufficio competente, guarda che c'è il cliente Pippo che ti dice che sta cambiando indirizzo e quindi devi andare sui sistemi dell'azienda a cambiare l'indirizzo relativo. Sempre a seconda di queste condizioni, quindi del che cos'è è del tipo di polizza, cambio il campo da lavorare nel documento notes in modo che solo l'ufficio a cui è destinata questa lavorazione possa vederlo. Gli addetti dell'ufficio la mattina, teoricamente, aprono l'applicativo, vedono le notifiche del giorno e se le possono prendere in carico. La condizione qua, quindi le condizioni richieste sono fondamentalmente da dove arriva il documento che stiamo esaminando. Abbiamo considerato che qualunque lettera in entrata da un cliente, a prescindere dal coso, ma qualunque lettera in entrata sia una richiesta che il cliente ci sta facendo e che quindi presuppone una lavorazione e o una risposta. Quindi non andiamo nel dettaglio a vedere questo sì, questo no, questo sì, questo no, tutto quello che ci scrive il cliente è qualcosa che va lavorato. Dalla parte notifica, quindi l'avviso in notes guarda che c'è qualcosa da fare, si possono generare fino a 5 lavorazioni diverse, nel senso che può essere che un cliente nella stessa lettera mi chieda due o più cose contemporaneamente e quindi devo prevedere la possibilità di smistarlo su più lavorazioni. Questo mi permette anche di segnalare ai colleghi, guardate che questa cosa me la sono presa in carico io, quindi è già posto, sta già andando avanti, alla fine della chiusura del tutto, poi archiviamo in un altro database le lavorazioni avvenute. il risultato è questo, tenete presente una cosa, stiamo parlando di un applicativo sviluppato internamente all'azienda per solo esclusivo uso interno, per cui abbiamo avuto molta attenzione alla parte funzionalità, non dovendo rivenderlo perché non siamo business partner, la parte interfaccia utente, la parte grafica non è esattamente delle migliori, siamo un po' ridotti alla... la verità è che io sulla parte grafica sono una schiappa. Per cui la parte grafica vabbè è quella che è, però funzionalmente collega la mattina, apre l'applicativo, si ritrova una o più notifiche, dove ho numero di pollizzer, contraente, tutti i nostri dati interno per la gestione, da dove arriva, quindi l'origine, l'esito che è confermata perché potrebbero esserci casi in cui non è confermata nel senso non è chiaro cosa chiede il cliente perché può capitare in una lettera magari scritta a mano, non si capisca bene, le date, anche qui abbiamo dei dati pollizi abbinati, quindi i dati dei nostri interni, il tipo documento, quindi cosa mi sta chiedendo in questa lettera il cliente, mi dice che ha cambiato lavoro. Di conseguenza questo tipo di lavorazione va all'ufficio variazione portafoglio, sotto nascosto c'è un campo dollaro reader col gruppo corrispondente che lo fa vedere solo queste persone. In più ho la possibilità da qui di aprire direttamente il documento, quindi di aprire il pdf della lavorazione, di aprire i dettagli di indice o di aprire tutta la cartellina, quindi tutto lo storico del cliente. Posso vedere il singolo pdf o tutta la storia del cliente, quindi tutto quello che ho in archivio relativo a questo cliente. andiamo a vedere un attimino la parte di codice che ci sta sotto. Allora come dicevo la parte importante è l'uso delle extension per db2. Allora prima cosa che è requisito assolutamente indispensabile? Sul server domino deve essere installato un software scelta fra questi due, per cui o IBM Data Server Client oppure db2.connect. Questi due software hanno in comune una serie di funzionalità che sono i driver o dbc per parlare con db2 e i driver cli, sempre per parlare per db2, più una serie di utility tipo configuration assistant e cose simili. Il cli che è quello che viene usato dalle estensioni di nodes, è il call level interface per cui in realtà sono delle api che vanno a dialogare con db2 e sono quelle che vengono, ripeto, correntemente usate. O dbc me l'ha installato ma in realtà non lo uso. La differenza fra l'IBM Data Server Client e il db2.connect è che il secondo ha più moduli, ha più funzionalità e se non sbaglio bisogna pagarci una licenza, mentre il primo è ridotto all'osso ed è free. Cosa faccio in lotto script? Ok, allora, prima cosa, qualunque script ovviamente deve cominciare con questo, quindi gli dico caricami l'estension di lotto script. Quest'estension poi lo vedremo in un caso particolare, in un caso apposito, non sono solo per db2, in realtà potrei avere dietro anche Oracle o altri database, l'estension comunque supportano anche altri database. La prima cosa che dichiaro è la connessione a un database dicendogli appunto che è una connessione db2, dopodiché gli dico il nome del database, l'utenza da usare, la password da usare e gli dico di connettersi. In più do questa istruzione map by name che mi serve per portare dietro in automatico i nomi dei campi da il record db2 agli oggetti domino, lotto script che vado a creare, in modo che non ho poi degli oggetti che sono campo 1, campo 2, campo 3, campo 4 che diventano scarsamente leggibili, ma si porta dietro fisicamente i nomi dei campi e quindi mi aiuta. Una volta che ho fatto la connessione in questo modo, io l'estension le posso usare in due modi diversi. Primo, semplicemente mi creo una query SQL, select, asterisco, from, bla 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 e la passo all'estension, questa me la esegue e mi ritorna il risultato. Secondo, posso crearmi un oggetto in memoria che è l'immagine del record db2. Vado, quindi fondamentalmente si tratterà alla fine di un array, vado a manipolare questa immagine prendendomi i valori, cambiandoli, modificarli, eccetera, eccetera, e la ripasso a db2 e quindi ripasso il record avanti e indietro a db2. Le funzionalità delle due modalità qui presenti, come tempi di risposta e come performance non ho notato differenze, per cui alla fine uso un modo o uso l'altro solo esclusivamente per questioni di comodità. Se devo scrivere una query di update che mi viene lunga così, beh forse mi conviene usare l'immagine in memoria e la gestisco meglio. Se devo fare una query semplice che è corta, ok, faccio prima scriverla in questo modo. Quindi alla fine una o l'altra vengono usate solo per questioni di comodità. Primo modo, quindi con il comando SQL puro, faccio la mia connection come abbiamo visto prima, dichiaro un oggetto che è un lotus connection field list, quindi è l'immagine del record, mi creo la mia query, gli dico di eseguirla mettendo i risultati nella field list che ho dichiarato qui, quindi nell'immagine del campo. Quindi qui è la classica select qualcosa e mi riporta indietro in questo field list il risultato della query. Il secondo metodo invece funziona in questo modo, dichiaro sempre la field list, dichiaro i campi che ci sono all'interno della field list, gli assegno, quindi li leggo campo al record, quindi prendo il nome e gli dico che fa parte di questo record, dopodiché vado a manipolare i valori all'interno e vado a scrivere quello che mi serve. Una volta che mi sono costruito il record in questo modo, quindi andando a specificarli poi, se sto parlando di un campo testo, di un campo integro, di un campo data, eccetera, 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 alla fine vado a fare l'insert in db2 e quindi scrivo fisicamente l'immagine in db2. Ripeto, questo sistema è molto più comodo perché mi evita di dovermi scrivere delle query enormi. Una volta che abbiamo creato i record in db2, quindi che ho i miei documenti in db2, devo avere ovviamente la possibilità di andare a ricercarli, quindi devo poter inserire dimmi tutto quello che c'è della polizza 99. Questa parte è stata deciso di tenerla separata dall'applicativo notes ed è totalmente gestita sul lato browser, sempre l'autoscript che gira sotto, sempre sul motore di domino, però si è preferito andare via browser. Abbiamo anche qui, adesso lo vedremo, un menu di ricerca che mi permette di cercare per polizza, per contraente, per stampato, quindi per dati diversi. Mi dà come risultato il contenuto della posizione, quindi quello che noi chiamiamo appunto la cartellina con tutto lo storico della situazione, con i link ai singoli documenti. Come dicevo, l'abbiamo servita via HTTP, questa quindi usata da browser. Da un lato mi dà una separazione netta fra i due applicativi, perché al lato finale stiamo parlando di due applicativi diversi, uno è quello che mi gestisce l'archivio, uno quello che mi gestisce i flussi di lavoro. Sono collegati in più punti fra di loro, ma possono essere visti come due applicativi distinti e infatti abbiamo alcuni utenti che usano solo la parte di consultazione, quindi vanno solo a pigliarsi i dati, a vedere i dati per motivi vari. In più, usando la parte di retrieve dei dati da DB2 via browser, tutta la parte di connettività è gestita dal server, quindi non ho dovuto preoccuparmi di andare sui client, a installare ODBC, tenere gli aggiornati e così via. La form di ricerca che vedremo poi è ovviamente una form notes, dove inserisco i dati, pulsante, il pulsante mi crea l'interrogazione e come abbiamo visto prima faccio una fetch dei dati, i dati che recupero, quindi che metto nell'immagine del record in memoria, l'autoscript poi me li tratta costruendomi la pagina HTML, quindi mi costruisce un table e dentro le varie celle della tabella mi contengono i valori. Alla fine il tutto è questo, l'interfaccia di ricerca via browser è fatta in questo modo, potete ricercare per polizza, per cognome, per cognome e nome, per numero stampato, lì abbiamo i relativi pulsanti, abbiamo alcune funzionalità aggiuntive per vedere dei dati particolari, per fare ricerche particolari, la parte di statistiche che controlla quanti documenti ho in linea sul DB2, la guida in linea per gli utenti, questi poi li vediamo, sono due sviluppi nuovi che stanno arrivando. Quindi inserisco il 99% degli utenti, lavora per polizza, per cui numero polizza, clic sul pulsante, questo è il risultato che si ritrovano a video, quindi questa è la classica interrogazione di una cartellina, quindi dei dati storici di un cliente. prima colonna è il famoso ID che vi ho citato prima, quindi quel numero progressivo che lega tutti i documenti fra di loro, numero polizza, tipo di polizza, per noi questi sono categorie tariffa, quindi sono il tipo di polizza, il contraente, data di creazione del documento, cosa c'è dentro, e questi sono tutte le regole, da dove arriva, e poi lì abbiamo quattro icone aggiuntive che, poi vi spiego, la più importante è questa, cliccando qui vanno effettivamente ad aprire il documento in questione. Uno sviluppo che stiamo facendo esattamente in questo periodo è il fatto che vedete che anche il nome del contraente è diventato un link. Da qui ci si collega, ove è possibile, quindi ove abbiamo tutti i dati per farlo, al sistema di CRM aziendale che abbiamo implementato quest'inverno, e quindi posso andare a vedere tutti i dati anagrafici di questo cliente. In realtà invoca un web service del CRM, quindi ho la parte di web service consumer su Domino, che chiama il web service del CRM aziendale, che risponde con i dati del contraente. Le quattro icone che vi dicevo prima sono, la prima appunto, quella che mi visualizza il documento, quindi il PDF, il JPEG, o comunque cosa sia, le altre due mi servono per visualizzare o modificare i dettagli di indice, quindi i dati legati in DB2 a quella polizza, modificare ovviamente, passa la modifica poi a DB2, la quarta icona anche qui va a prendermi degli ulteriori dettagli anagrafici del cliente. Questa è la modifica dei dati di indice, quindi a partire sempre il famoso ID che è presente un po' dappertutto, mi dice cognome, nome, codice fiscale, polizza, tour, l'agenzia di riferimento, tipo documento, bla bla bla, quindi tutti i dati collegati al cliente, cioè passiamo alla parte, quella che ha fatto sudare un attimino di più, cioè l'inserimento e il recupero del file binario, quindi del PDF, JPEG, quello che sia, in DB2 da LottoScript. Come dicevo, tutti i file vengono inseriti in campi bilob, il problema grosso appunto era come memorizzarli e richiamarli, in realtà non è un problema grosso perché le extension di LottoScript lo fanno tranquillamente, lo fanno in un modo che la prima volta fa venire leggermente mal di testa, poi una volta capitala il meccanismo si va via tranquilli. In realtà ve lo riassumo un po', poi per i dettagli vi consiglio, se vi serve di consultare la documentazione. Fondamentalmente cosa faccio per gestire i file? La connessione al DB2 e una connessione al file system. Come vi dicevo prima, i connectors non lavorano solo con DB2, possono lavorare anche con Oracle o con altri database e possono lavorare col file system. Trattano il file system del server o della macchina su cui stanno lavorando come forse un database. Dichiarando la connessione al file system, nelle proprietà del file system vado a dirgli come database e metadata che sto lavorando non su una tabella ma sul disco D e su questo folder, su questa directory. Dopodiché gli dico guarda che sto lavorando con dei file binari e mi connetto. concettualmente allo stesso metodo di lavoro della connessione a DB2 cambiano questo tipo di dichiarazione. Per passare, per inserire un file in DB2 devo crearmi due immagini del record, due fill list, una che punta al file system e una che punta al DB2. vado a creargli i campi che ho all'interno, vado a dirgli qual è il file name, quindi qui dico qual è il nome del file che devo da file system caricare in DB2, faccio il fetch del file, quindi me lo carico in memoria dal file system, lo mappo al record DB2 e poi faccio il fetch di tutto dalla memoria di Lotus Script a DB2 e in questo modo chiudo il giro, ho trasferito il mio file dal file system del server al campo bilob di DB2. Quindi faccio la insert e fisicamente ce l'ho in tabella. l'estrazione dei dati è esattamente speculare, quindi nel caso in cui io voglia prendere dei dati da DB2 per visualizzarli, il metodo di lavoro è esattamente speculare, vado a prenderli in DB2, me li scarico sul file system del server in una diretta di temporanea e poi lo apro. l'unica cosa che cambia è che ovviamente il fetch lo faccio non più dal file system ma da DB2, quindi lancio la query SQL verso DB2, prendo i risultati, scarico, sono andato un attimo avanti, scarico il file sul file system in una diretta di temp, dopodiché l'autoscript passa al browser del client queste tre righe, cioè gli va a dire, guarda che è javascript, è una riga semplicissima, fammi una window open del nome file che ho scaricato nella diretta di temp e quindi il browser mi apre una nuova finestra presentandomi il file che ho scaricato. In questo modo io ho oltretutto il vantaggio di poter gestire in DB2 qualunque tipo di file che il browser e il sistema operativo mi supportano, per cui io potrei mettere dentro, va bene, noi tipicamente lavoriamo con PDF, JPEG, TIFF, c'è stato un momento in cui abbiamo pensato di registrare le telefonate dei clienti, salvarle in formato mp3 e archiviare anche quelle. Tecnicamente sarebbe funzionato, a parte il fatto che il database probabilmente sarebbe diventato abbastanza grosso, non l'abbiamo fatto solo perché avremmo dovuto mettere all'inizio della telefonata caro cliente guarda che ti stiamo registrando eccetera 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 e quindi diventava un po' caotica come cosa e poi all'atto pratico avrebbe avuto scarsa utilità perché qualunque cosa ci dica il cliente la risposta telefonica normalmente è ok, va bene quello che mi dici, scrivimelo. Ovviamente come assicurazione qualunque comunicazione del cliente deve essere scritta e firmata per cui anche dal punto di vista legale una comunicazione verbale non avrebbe avuto valore. Però tecnicamente se si fosse voluto registrare la telefonata potevamo farlo tranquillamente e inserirla qui. Allora abbiamo visto fino adesso come flusso in entrata di tutto l'applicativo il fatto che il fornitore che riceve la nostra posta la passa allo scanner, crea i pdf, ce li passa e noi li buttiamo dentro in db2. Questo è stato l'inizio, ad oggi questo non è l'unico flusso presente ci sono altre origini di dati che entrano. Prima cosa sono i fax in entrata i fax anche quelli sono gestiti su un server fax in domino quindi ogni numero di fax ha la sua casella ogni fax in arrivo crea un documento dove c'è un allegato, un file tif il fax viene letto da qualcuno perché non c'è possibilità avevamo pensato di mettere uno cr che leggeva il tif e quindi ci automatizzava le cose ma l'affidabilità non ci convinceva quindi qualcuno legge il fax registra sempre i classici dati, il numero di polizza, cosa mi chiede il cliente, cosa vuole uno script passa poi le caselle di fax periodicamente prende il tif con i meccanismi di prima meno scarica in db2 e quindi il tutto va a finire in archivio sempre in base ai criteri di prima come per la posta a cartacea apre anche la notifica di lavorazione per cui qualcuno da qualche parte in azienda viene notificato che il tal cliente ha mandato un fax che chiede questa cosa e da lì poi parte l'eventuale lavorazione Posta Posta è un caso un po' particolare abbiamo deciso di archiviarla ma ovviamente sulle email in entrate e in uscita col cliente abbiamo dei limiti il limite grosso qual è? un messaggio di posta è probabilmente la cosa più destrutturata che ci sia per cui archiviarlo diventava un po' un problema l'unica soluzione accettabile che abbiamo trovato ad oggi è che la posta in uscita da noi che deve essere archiviata deve come regola aziendale cominciare con il subject, perdono deve cominciare con polizza due punti e il numero questo è l'unico meccanismo che abbiamo per intercettare l'email e scaricarlo in DB2 con un minimo di dati, cioè il numero polizza il minimo necessario per poterlo poi un domani ricercare e ribiduerlo quindi anche qui c'è una casella di posta apposita quando un collega deve mandare un'email a un cliente mette tipicamente in CCR l'indirizzo di questa casella di servizio anche qui c'è uno script che periodicamente passa legge cosa c'è da fare scarica il testo dell'email in formato HTML lo carica in DB2 scarica gli eventuali allegati e anche quelli vengono buttati in DB2 ovviamente questi sono ricercabili solo e esclusivamente per numero polizza se uno fa la ricerca per contraente della polizza questi non potrà mai averli i reclami i reclami sono un caso abbastanza particolare da noi abbiamo una procedura apposita per gestire i reclami che un cliente può mandare alla compagnia perché dobbiamo seguire delle regole ben precise che ci detta ISVAP che è l'istituto di vigilanza sulle assicurazioni private eccetera eccetera ISVAP ha deciso che tutti i reclami devono seguire un certo flusso devono essere protocollati in un certo modo devono avere risposte entro certi tempi quindi c'è una regolamentazione molto stretta c'è un applicativo sempre notes relativo per gestire tutta questa che era già preesistente rispetto alla gestione documentale anche lì uno script passa in questo applicativo controlla che reclami ci sono quali sono i documenti generati da questo reclamo quindi ci sarà la lettera del reclamo del cliente più la nostra risposta il tutto viene sempre scaricato in DB2 un altro pezzettino di applicativo mi dà la possibilità a tutti gli utenti di fare un caricamento manuale le classiche cose spot ho qui questa cosa qui che vabbè adesso la passo allo scanner poi deve andare dentro nella cartellina insieme a tutti gli altri dati del cliente passano allo scanner generano un file jpeg, pdf, quello che sia lo inseriscono in questo apposito pezzo di applicativo anche lì devono ovviamente scrivere pollice e quant'altro lo inseriscono come attachment e anche questo viene poi scaricato in cartellina la corrispondenza in uscita da noi verso cliente questa è l'unica parte dell'applicazione che non gira sotto domino anche qui stiamo parlando di qualcosa che in realtà c'era già tutte le volte in cui noi facciamo comunicazioni massive verso i nostri clienti esempio tutti i clienti con una polizza vita una volta all'anno ricevono il rendiconto della loro polizza per cui dice versamenti effettuati interesse e così via abbiamo un applicativo a posto con un server print manager di OCE che in base ai dati dei gestionali aziendali genera dei pdf uno per cliente questi pdf normalmente vengono girati a postel che si occupa poi di stamparli imbustarli e spedirli per posta siamo andati a intercettare questo flusso già esistente quindi al momento in cui viene girato a postel per l'imbustamento e la postalizzazione viene girato anche in DB2 e quindi tutti questi pdf vengono inseriti in cartellina in questo modo memorizziamo non solo quello che il cliente manda a noi ma quello che noi mandiamo al cliente e manteniamo sempre la storia aggiornata come vi ho detto all'inizio le agenzie nostre non sono di nostra proprietà quindi alcuni dei dati che vengono inseriti nel documentare devono poter essere recepiti visualizzabili dall'agenzia ma non tutti i dati ci sono delle restrizioni ben precise in base al tipo documento in base al da dove arriva quindi solo un subset dei dati nel documentare può essere messo a disposizione dell'agenzia soluzione le nostre agenzie già da prima avevano una serie di applicativi per altri utilizzi per altre motivazioni sempre applicativi notes con interfaccia html tutte le nostre agenzie lavorano solo esclusivamente via browser proprio perché non essendo nostre non possiamo obbligarle a comprare client notes per cui lavorano solo con interfaccia browser è stata creata un altro applicativo per le agenzie che contiene solo i link per scaricare i documenti quindi ogni agenzia ha il suo NSF e questo mi salva sia dal punto di vista performance quindi sono tanti NSF però sono snelli e vengono aperti rapidamente dal browser sia dal punto di vista sicurezza quindi sono sicuro che ogni agenzia può entrare solo nel suo perché ovviamente con la CL ho chiuso l'accesso aprendolo poi vediamo la videata ha la lista dei documenti a sua disposizione anche quelli sono dei link clicca apre il documento in realtà clicca apre il documento in mezzo c'è una cosetta che abbiamo messo tanto per essere sicuri che l'agenzia vada a leggersi proprio il suo e non quello di qualcun altro nel senso che il link contiene il famoso numero di ID che ho citato più volte che mi serve per andare a recuperare il PDF potenzialmente facendolo piano senza nessun tipo di controllo un'agenzia fa un copia e incolla del link cambia il numero di ID e va a prendersi un documento a caso nel documentale non ci sembrava bello per cui nel link l'ID è codificato e in più dietro c'è uno script che controlla che decodifica il numero di ID controlla che sia congruente controlla che l'agenzia possa aprire quel documento quindi ho anche nei record chi può vedere che cosa il cosa può vedere l'agenzia vi dicevo è deciso in base al tipo documento quindi a cosa c'è dentro anche qui c'è uno script che giornalmente va a vedere cosa è stato fatto ieri se il tipo documento è qualcosa che deve essere messo a disposizione dell'agenzia va nell'applicativo notes e scrive il link come dicevo il link lo scrive codificato in modo da tenere un minimo di sicurezza proprio perché se il match non è verificato mi dà un bel messaggio all'agenzia dicendo guarda che non puoi aprire questo il risultato sempre con la nostra grafica scarna di cui vi accennavo prima è questo l'agenzia entra nell'applicativo che abbiamo chiamato corriere elettronico in un impeto di fantasia dove vede divisi per categoria i documenti e questi sono i relativi link lì abbiamo la data di creazione clicca qua apre il pdf qui ovviamente ha le varie possibilità di muoversi da una sezione all'altra dell'applicativo per cui vede solo alcune parti e altre diamo un po' di numeri questi numeri sono aggiornati all'altro ieri o a tre giorni fa attualmente l'applicativo contiene sulla parte vita ecco tenete presente vi dicevo che noi gestiamo la parte vita e la parte d'anni per noi non dico che sono due aziende diverse all'interno di Ergo ma sono due settori nettamente separati quindi anche la gestione documentale tutti i flussi di lavoro tutto sono nettamente separati sulla parte vita che è quella partita per prima tre anni fa in DB2 quindi tre giorni fa avevamo più di 4 milioni di documenti sulla parte d'anni erano 796 mila quindi come archivio di documenti ognuno di questo può essere un pdf di più pagine per cui in realtà il numero di pagine è sempre stato un po' una cosa che non siamo riusciti a quantificare notes quindi la parte di gestione e lavorazione notifiche e così via conteneva un milione e trecento passamila documenti che sono l'insieme delle notifiche e lavorazione sia quelle in corso sia quelle archiviate quindi abbiamo raggiunto numeri abbastanza significativi e sono numeri in continua crescita la parte vita è ormai stabile è partita tre anni fa quindi è ormai stabile la parte d'anni sta partendo da inizio anno non è ancora pienamente funzionale e quindi ha solo esclusivamente la possibilità di crescere esponenzialmente cosa facciamo nel futuro allora come vi dicevo prima cosa estensione del sistema alla parte d'anni della compagnia l'abbiamo già iniziata non abbiamo ancora tutti i flusci di cui vi ho parlato ma da qui a 31 dicembre se mi sentono in azienda mi ammazzano perché devo farlo prima però obiettivamente da qui al 31 dicembre avremo su anche questo subito dopo passiamo all'archivio sinistri quindi il terzo grosso problema o opportunità è la parte che gestisce i sinistri che non è nel caso dell'auto è abbastanza semplice il sinistro è la constatazione amichevole l'incidente che arriva si decide quanto è il danno e così via e va abbastanza tranquilla nella parte vita purtroppo è molto più complesso perché in caso di malattie o purtroppo di morte del contraente entrano in ballo le cartelle cliniche ho visto cartelle cliniche per definire la storia del contraente che erano alte così per cui quello sarà tutta roba da passare allo scanner e far entrare qua comunque anche questo entro fine anno diventerà operativo questo al momento proprio non esiste dopodiché diventiamo a tutti gli effetti un'azienda paperless non abbiamo più archivio cartaceo l'abbiamo dato tutto in outsourcing lavoriamo solo e esclusivamente con i documenti in formato elettronico altri prossimi passi completare la migrazione del DB2 dalla piattaforma corrente ad AX il sistema danni quello che sta partendo adesso è partito già su AX quello dei sinistri ovviamente parte da su AX dobbiamo terminare la migrazione di tutto il sistema vita quindi di 4 milioni di passarecord sulla parte AX il browser quindi le interrogazioni della cartellina ovviamente al momento chiedono un utenza e password che sono quelle di notes perché stiamo girando su notes anche lì siccome i colleghi sono tipicamente dei pigri a breve passeremo tutto alla modalità spnego cioè la possibilità di lo trovate tra l'altro sul sito di Domino Point spiegata come cosa di prendere di usutilizzare le credenziali di Windows per fare login anche su notes e quindi lasciarlo trasparente all'utente alcune parti applicazioni andranno verso Xpages attualmente stiamo lavorando su quella delle agenzie che quindi dal look che avete visto diventeranno qualcosa Xpages quindi alcune parti diventeranno Xpages una cosa non da poco è che facendo tutto questo lavoro tenete presente che la parte chiamiamola core quella veramente grossa ci abbiamo messo ci ho messo a sei mesi a tirarla in piedi e a farla partire poi ripeto essendo un applicativo interno sviluppato internamente è continuamente un cantiere perché continuano a chiedere cose però l'esperienza che abbiamo acquisito lavorando su questa parte ci ha poi aperto un mondo che è tutto il mondo delle connessioni fra Domino e DB2 i nostri sistemi aziendali per il 90% purtroppo abbiamo qualche eccezione ma per il 90% usano DB2 su AX su Windows e su Mainframe per cui questo lavoro ci ha in realtà poi aperto un mondo di integrazione fra Notes e DB2 mi ha aperto anche un mondo di cose da fare che non riesco a starci dietro ma questo è un dettaglio quindi l'integrazione tra sistemi dati aziendali è diventata molto migliore col tempo sono un po' in anticipo io vi lascio qui un paio di riferimenti di base per approfondire quanto detto per cui questa sul sito IBM il classico Redbook che è fatto veramente bene l'help dei connector che è un po' più criptico poi se cercate su santo Google di questo argomento trovate ripeto essendo una tecnologia che è già esistente da un po' di anni di materiale di pubblicazione ne trovate in abbondanza io con questo siamo un po' in anticipo per cui se qualcuno vuole fare domande se no potete correre verso il pranzo a vostra scelta grazie grazie a tutti grazie a tutti